Ciao, sono Carlo Paris. Ogni giorno migliaia di bambini sono in pericolo, in fuga dai loro inferni. Bambini perseguitati, minacciati, malnutriti, in fuga da guerre, sfruttati, derubati della loro infanzia. Sono bambini che non hanno scelta, noi invece sì. Insieme all'Unicef noi possiamo salvarli. Dona allora 2 euro con questa sms 45594 oppure 2 o 5 euro con la chiamata al 45594. Salva la vita dei bambini a Natale e in tutti i santi giorni 45594.